Prima il ciclismo, poi la musica. La seconda serata della Sagra di San Sabina qui a Mariana Mantovana avrà come protagonista Marco e i clan per quel che riguarda lo spazio, il momento musicale, la danza. Allora, una serata in terra a Mantovana che si preannuncia? Intanto buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità che mi state dando. Noi, il nostro augurio è che si preannunci spettacolare e ce la mettiamo sempre tutta perché oltre che essere un lavoro per noi è anche una gran passione, un gran divertimento e tutto quanto quel che circonda l'ambiente. Noi ce la mettiamo sempre al 101%. Benissimo, una piazza come questa di Mariana Mantovana che si presenta esigente ma voi saprete accontentarla sicuramente con tanti generi musicali. Ma mi auguro proprio di sì, visto che giriamo un po' dappertutto, mi auguro che anche Mariana Mantovana sia un posto che quando usciamo con il pulmo da qua abbiano da dire bravi ragazzi. Già stato nel territorio mantovano? Sì, noi facciamo i locali, abbiamo fatto diverse feste qua nei dintorni. Questo è un ritorno perché io mi ricordo di essere venuto circa 22 o 23 anni fa. Benissimo, il vostro spettacolo lo costruite canzone dopo canzone sulla base un po' delle sensazioni che ricevete dal pubblico o avete una scaletta? No, no, io guardo sempre la pista, guardo sempre la gente perché l'importante è che la gente debba contribuire allo spettacolo.